VACANZE FINITE L'autostrada del grande raccordo anulare di Roma con circa 400.000 passaggi seguono la 3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto salernitano con 253.000 transiti la statale 36 del lago di Como e dello Spluga con 218.000 autovetture la Roma-Fiumicino con 189.000 la statale 1 Aurelia nel tratto laziale con 145.000 transiti